6 del mattino, 6 giugno 1944. Il mondo è in guerra, diviso fra le forze dell'asse e quelli degli alleati. Quest'ultimi decidono di sferrare il più massiccio attacco via mare della storia contro le coste della Normandia occupata dai nazisti del Terzo Reich. Migliaia di navi da guerra esplodono, centinaia di migliaia di colpi contro le postazioni naziste. Stormi di caccia e bombardieri spianano al suolo borghi e strade, mentre 156.000 uomini sbarcano a più ondate sulle spiagge di Omaha Beach, Utah Beach, Gold Beach, Yuno Beach e Sword Beach. La potenza dell'operazione Overlord si scatena durante quello che il mondo ricorderà come il giorno più lungo. Il mondo. Il mondo non sarà più lo stesso da quel momento in avanti, mai più. Quel giorno le porte dell'inferno si spalancarono e i morti tornarono sotto il cielo insieme ai vivi, spinti dalla fame più sfrenata e mossi solo dalla cieca ferocia. Questo è il mondo senza pace, il mondo di Sine Requie. Per tredici lunghi anni il mondo sarà consumato dalla piaga dei morti affamati. A miliardi verranno divorati vivi, andando ad ingrossare i ranghi degli eserciti dell'apocalisse più devastante della storia romana. Dalle città immacerie, dalle fosse dei campi di sterminio, dai vascelli affondati sotto costa, dalle carcasse degli aerei abbattuti, dai cimiteri e persino dai musei, i morti risorgono per ridurre il mondo al silenzio e alla rovina. Ma non tutte le luci si sono spente, non tutte le città sono cadute preda della fame insaziabile dei morti. Le società umane si sono risollevate dalle ceneri in forme nuove e abominevoli, retrograde e inimmaginabili, temprate e abrutite dalle esperienze terribili che hanno filtrato via la scintilla di umanità dai cuori dei sopravvissuti. Per questa seconda puntata del podcast di Quei Bravi Nerdazzi parleremo di Sine Requie anno 13. Gioco di ruolo tutto italiano pubblicato da Asterion Press nella sua seconda edizione e ideato da Matteo Cortini e Leonardo Moretti. Recentemente è stata pubblicata una terza edizione aggiornata e distribuita dalla Serpentarium Games. Io sono Claudio, Moetard GM, e in questa puntata cercheremo di delineare i tratti di questo splendido gioco con l'aiuto dei messaggi inviatici da alcuni dei nerdazzi. Sine Requie è un gioco che ci ha dato davvero tanto e lo abbiamo giocato in diverse occasioni e sempre si è dimostrato micidiale da lasciare col fiato corto. In Sine Requie i personaggi si trovano a dover fare i conti con una realtà terribile, violenta e spietata. La scarsità di risorse delle terre selvagge ha trasformato uomini e donne in iene fameliche. In Italia il terrore della fine dei tempi ha fatto ripiombare il paese in una cappa oscurantista religiosa con a capo il Papa di Roma e i suoi cavalieri equipaggiati per affrontare le orde di morti. In Germania il IV Reich è sorto dalle ceneri dell'impero italeriano serrandosi su se stesso in un regime terrificante dai principi folli e dogmatici. Nella Russia stalinista il popolo è stato evacuato in immani città formicaio di metallo e pietra che si stagliano monumentale all'orizzonte e per chilometri sottoterra e dove il popolo vive nel terrore del regime biotecnologico di Zar che li priva di identità e speranza. In Giappone l'eco di un imperatore celeste governa un popolo ripiombato in un medioevo tradizionale difeso da roni in immortali e samurai schierati contro i morti e gli spettri che infestano gli antichi templi scintoisti e le foreste nebbiose. Il Nord America è stato devastato dalle detonazioni degli ordini nucleari sulle più grandi città della costa orientale che hanno devastato il territorio e aumentato a dismisura le orde di morti famellici. Solo gli stati del sud e poche altre città sono riuscite a sopravvivere e solo per affrontare realtà sociali ancora peggiori di quelle che si sarebbero potute prevedere nella peggiore delle eucronie. In Egitto le mummie degli antichi monarchi delle grandi dinastie sono tornati a regnare e con poteri divini riescono a tenere i morti lontano dai sudditi. I faraoni hanno ripristinato gli antichi culti egizi spazzando via l'Islam e le altre minoranze religiose. Il regno d'Egitto si erge maestoso lungo le sponde del Nilo mentre milioni di morti gemono lungo i confini essiccandosi al sole. Questa è una panoramica generale e introduttiva a una delle ambientazioni più originali che mi sia mai capitato di vedere e in cui ho ambientato almeno una decina di campagne. Ma andiamo per gradi, parliamo dei morti. Nei manuali non vengono mai definiti zombie. Io come narratore vietai l'uso di questo termine in maniera assoluta, altrimenti secondo me si toglierebbe unicità a queste creature associandole a qualcosa di già visto e in ogni caso la parola zombie riporta la mente a collegamenti esterni e disfunzionali al gioco. Certo, sono cadaveri ambulanti che si scivano di carne umana, ma la somiglianza finisce lì. Non è poco, direte voi, ma aspettate. I morti di Sine Requie sono virtualmente immortali, decadono lentamente se non nutriti di carne vivente e possono essere fermati solo distruggendo e smembrando i loro corpi con armi da taglio, da fuoco oppure usando esplosivi. Indipendentemente dalla causa, tutti coloro che muoiono torneranno come morti erranti. Una pallottola vacante, una malattia qualsiasi, una caduta accidentale o la vecchiaia. Ogni morte porterà il defunto ad ingrossare l'infinita schiera affamata di carne vivente. Il morso dei morti è infetto alla stessa maniera di quello di una belva feroce e non è necessariamente il veicolo del risveglio, al contrario di come invece siamo appunto abituati a vedere nei film di zombie. I morti di Sine Requie sono di varie specie e tutte, o quasi, sono state catalogate dal dottor Pelagatti, medico e ricercatore italiano condannato d'eresia dalla Santa Romana Chiesa e per questo costretto all'esilio dal Sanctum Imperium, che domina sulla Pellisola italiana e sui suoi nuovi domini della Provenza e delle isole di Sicilia, Sardegna e Corsica. Il professor Pelagatti predilige il metodo scientifico alle verità delle sacre scritture e questo non si può dire che abbia proprio portato fortuna. Ora, assieme ad un manipolo di cacciatori di morti ed altri avventurieri, viaggia per quella che un tempo era l'Europa per studiare il fenomeno degli Homo Mortus o Homine Morti, nel disperato e pericolosissimo tentativo di comprendere la causa del risveglio dei morti in tutto il mondo. Non ci sono certezze, solo teorie. Si potrebbe addurre un virus, un batterio o un fungo, ma questo non spiegherebbe il risorgere di cadaveri sopravvissuti allo sfacelo del tempo e anche molto antichi, e che ancora conservano ricordi e coscienza, ma sono fortunatamente casi molto rari. La spiegazione sovrannaturale è difficile da credere, ma comunque non la si può escludere, visti i famigerati poteri che alcuni dei morti di classe maggiore sembrerebbero possedere a detta dei racconti. altri dicono che la morte ha perso la sua falce e che ci siano persino degli invasati che si sono gettati alla sua ricerca. Ma ora passiamo alla classificazione che il dottor Pellagatti fa dei morti nel suo libro, che esiste nell'ambientazione di gioco e si può clandestinamente consultare, appunto il Sine Requie. Il primo tipo di morto, Homo Mortus Larvalis o Larva. Sono dei morti parzialmente risvegliati, in grado di emettere dei lamenti e di agitare appena le membra. Sono pochissimi e facili da distruggere, si nutrono solo se imboccati direttamente. Homo Mortus Simplex o Morto. Il Simplex è la categoria di morto più comune e probabilmente costituisce almeno tre quarti di tutti i morti erranti in giro. Nonostante siano lenti e sgraziati, non sono da sottovalutare, pericolosissimi negli spazi chiusi e se si viene messi in condizioni di scarsa mobilità. Non mostrano un istinto di conservazione e vengono attratti dalla carne umana vivente senza prestare attenzione ai pericoli dell'ambiente. Giusto, una cosa importantissima da dire prima di andare avanti è che i morti di Sine Requie non hanno punti deboli. Sparagli al petto o in testa ha lo stesso effetto, ovvero nessuno. Non si fermeranno finché avranno arti che permettano loro di muoversi. Dunque l'unica soluzione è farli a pezzi, distruggere loro la bocca, le braccia e le gambe lasciando solo le membre ad agitarsi a terra per anni. Questo li rende davvero tosti da affrontare anche nel caso dei più comuni Simplex, ve lo assicuro. Homo mortus major. E qui cominciano i problemi seri. Questi morti sono in grado di usare oggetti rudimentali come vanghe o spranghe e benché lenti sono più coordinati dei Simplex e molto più intelligenti e conservano persino un minimo istinto di autoconservazione. Sono difficili da distinguere nelle masse di Simplex e questo tende a far incorrere in errori di valutazione, spesso definitivi. Homo mortus obnoxius. Consuetudinario. Questi morti sono davvero rari e si trovano spesso in contingenze inquietanti, visto che i vivi a volte li nutrono volontariamente per restare aggrappati ad un familiare o ad un amato. Non attaccano i vivi solitamente, ma ci sono stati alcuni casi in cui questo è tragicamente accaduto. Mi ricordo un esempio riportato nel manuale Terre Selvagge di un giardiniere, morto ovviamente, un obnoxius, che dopo il risveglio si è semplicemente dato appunto a quella che era la sua mansione precedente, cioè il giardinaggio. Curava un giardino di rose. La famiglia che abitava questo palazzo, dentro cui si erano fortificati, alla lunga si era abituata alla sua presenza. Alla fine non aveva mai dato alcun segno di essere aggressivo o di nutrire in effetti la fame che contraddistingue gli altri morti. Poi purtroppo accadde un giorno che la bambina, la figlia della famiglia che abitava la palazzina, scese in giardino. Non era la prima volta che lo faceva, come ho già detto ormai erano abituati a considerare il morto del tutto privo di pericolo, diciamo. La bambina colse una rosa. La bambina non si vide per il resto del pomeriggio, finché i genitori non fecero una terribile scoperta. Per tutto il giorno i rumori delle cesoie non si erano fermate giù in giardino e l'obnoxius aveva continuato a curare le sue rose. Purtroppo, quando la bambina aveva colto la rosa, l'obnoxius l'aveva aggredita, l'aveva fatta a pezzi, divorata e uccisa. Dunque anche gli obnoxius possono riservare particolari sorprese. Homo mortus ferrox, o semplicemente ferrox. Questi morti sono estremamente pericolosi, veloci, forti e primitivamente astuti. Veloci quanto lo erano in vita, ma istancabili e più forti. Dimostrano una ferocia disumana. Un'altra cosa importante da dire sui morti di Sine Requie riguarda il cosiddetto fiuto. Tutti i morti hanno una più o meno elevata capacità di percepire i viventi, anche se sono stati privati di ogni organo di senso. Alcuni lo estendono per decine di metri, fino ad arrivare a centinaia di metri o addirittura a chilometri di distanza. Non serve a nulla nascondersi, trattenere il respiro, fuggire. Loro vi sentiranno anche attraverso i muri e sapranno sempre esattamente dove vi trovate. E i ferrox hanno un fiuto particolarmente sviluppato. A volte si riuniscono in piccoli branchi, ma non possiedono l'istinto di autopreservazione, fortunatamente. Homo mortus ferrox, le belve. Coordinati, agili, forti ed estremamente veloci. Questi morti sono avversari terrificanti, non solo per la loro qualità fisica, o per i loro sensi molto sviluppati. Conservano un barlume di autocoscienza, vuotato alla caccia dei viventi. Sono in grado di risolvere problemi relativamente semplici, collaborano fra loro come un branco di predatori. Possono usare dei ripari se bersagliati dai proiettili, e negli occhi lucidi brilla una scintilla di odio e cieca ferocia. Homo mortus maior, gli abomini. Sadici e malvagi, intelligenti più di un uomo è in grado di infliggere lente e atroci sofferenze alle proprie vittime, prima di sbranarle. Usano armi e preparano agguati per esporsi il meno possibile al pericolo se possono evitarlo. Sono per giunta più forti e agili di qualunque essere vivente, umano. Al contrario degli altri morti, gli abomini non sempre uccidono allo scopo di cibarsi, ma anche per soddisfare un impulso irrefrenabile di uccidere e infliggere sofferenza. Homo mortus insius, inconsapevoli. Un mistero alleggia attorno a questa categoria di morti. Essi non si distinguono dai vivi se non per i danni inflitti ai loro corpi nel momento del trapasso. Mantengono i ricordi e la coscienza, e sono in grado di parlare e di passare in mezzo ai vivi del tutto liberamente. Ciò li rende molto pericolosi per una comunità, in quanto non sono esonerati affatto dalla fame dei morti. La fame che li spinge a nutrirsi della carne e dei vivi. Oltretutto possono nutrirsi solo di carne umana e non di quell'animale, cosa che col tempo li porta inevitabilmente alla pazzia e al totale abbrutimento. Homo mortus diabolicus, i demoni. Nemici quasi fuori dalla portata di chiunque abbia un po' di senno. Affermare l'esistenza di queste creature porta all'atto di scomunica e all'accusa di eresia nel Sanctum Imperium. Eppure queste innominabili creature esistono, in grado di passare per viventi e dotati di poteri sovrannaturali. Se ben nutriti, mantengono il colorito e la temperatura di un vivente. Il loro fiuto è straordinario e la loro intelligenza, forza e agilità sono di molto superiori a quelle che possedevano in vita. Devono nutrirsi molto spesso di carne umana vivente e spesso usano i loro poteri per indurre le vittime a farsi divorare al loro piacimento. I poteri di ogni demone sono unici e caratteristici. Visitare i viventi in sogno, dominare la volontà altrui, proiettarsi a grandi distanze e magari fare anche patti con il diavolo per avere poteri ancora più straordinari e potenti. Ed ora l'ultima categoria di morti. Homo mortus farao, i faraoni. Queste antichissime mummie sono state in grado di attraversare i millenni, mantenendo un'integrità nel corpo sufficiente a tornare in vita il giorno del risveglio. E l'hanno fatto accompagnati da poteri straordinari, quasi divini. Inutile dire che qui siamo all'apice della pericolosità e della potenza della specie Homo mortus. Fortuna sono davvero pochi, ma sicuramente non si limitano alle mummie delle dinastie egizie, chissà in Sud America come se la passano. O pensare alle mummie delle torbiere di epoca vichinga, o ai corpi miracolosamente conservati di epoche lontanissime e disparate, appartenenti alle culture più diverse in tutto il mondo. Queste sono mie lucubrazioni, ma possono essere d'ispirazione. Basti pensare ai musei antropologici sparsi in tutte le grandi città del mondo, o ai grandi musei egizi con decine di mummie al loro interno. Fortuna, ben poche di esse saranno in grado di muoversi, ma questo forse, in certi casi, potrà non limitare i loro poteri. Questi morti sono elencati appunto nel sine requie del dottor Pelagatti, ma non dobbiamo pensare che tale classificazione o nette separazioni siano conosciute ampiamente nell'ambientazione di gioco. L'atmosfera di mistero, inquietudine e impotenza davanti al pericolo e al mistero dei morti è un aspetto importante da far sopravvivere più a lungo possibile, secondo me, nel gioco. Ma i pericoli non provengono solo dai morti. Se le orde affamate implacabili dei cadaveri non bastassero a tenere l'umanità sul ciglio dell'estinzione, ci sono anche altri orrori tremendi che metteranno a durissima prova i vostri giocatori. Il quarto Reich è uno stato nazista della peggiore specie, di gran lunga peggiore addirittura rispetto alla sua controparte italeriana. Sorretto da una società militarista e paranoide, fonda la sua unità sul credo del partito nazionalsocialista, evolutosi in una vera e propria religione nota come la chiesa teutonica, dove si eleva la figura del Führer a primo messia e si annuncia la venuta prossima di un nuovo messia che condurrà la razza ariana verso il dominio del mondo. Il quarto Reich investe enormemente nella genetica, arrivando a sperimentare progetti innominabili su cavi umane e sui morti, come nel caso dei Reichwarg, morti ferox potenziati al comando degli ufficiali dell'SS, o a creature bicefale o trecefale incarnate nei cerberi, i cani da guardia che accompagnano gli agenti della Gestapo o altri ufficiali del regime, o come i colossi umanoidi in grado di spezzare corvette militari da guerra in due. Altre oscenità da guerra abbondano nei laboratori di questa folle, sanguinare e distopica dittatura, dove persino i nuovi nati ormai risentono delle modifiche genetiche atti a generare nuovi perfetti ariani in grado di soppiantare le cosiddette razze inferiori. Il quarto Reich è governato da nuovi tremendi gerarchi, da quando quelli storici, Goering, Goebbels, Himmler e lo stesso Hitler, sono caduti vittime di attentati o dei morti. L'operazione Valkyria, organizzata dal colonnello Klaus Schenk von Stauffenberg, al contrario di quanto accadde nella nostra storia, ha avuto successo uccidendo Hitler. A loro posto, nuovi oscuri individui hanno preso le redini del comando e alcuni di essi sono avvolti da un alone di mistero e misticismo. La Germania del quarto Reich domina da Parigi alla Bielorussia, dalla Svezia fino ai territori dei Balcani e lo spirito imperialista non è mai stato saziato né spazzato via dalle mire dei nazisti che guardano con avidità i territori degli altri due stati sopravvissuti d'Europa, l'Italia del Sanctum Imperium e la Russia dei Soviet. L'Italia fascista si è dissolta e al suo posto è sorto un nuovo stato pontificio esteso su tutto il territorio nazionale con l'aggiunta di Provenza e Corsica. Il popolo della penisola, benché decimato, trovò rifugio nelle città murate medievali da cui poter resistere all'avanzata dei morti. Ora il pontefice romano ha riportato l'Italia ad una società dalle tinte medievali, anche se l'esercito è stato riorganizzato e modernizzato anche grazie al reclutamento dei sopravvissuti fra i soldati alleati presenti sul territorio italiano fin dal giorno del risveglio. Le campane scandiscono la vita quotidiana e l'assenteismo dalle funzioni religiose è severamente punito. L'ordine dei cavalieri del tempio è stato rifondato e ora questi guerrieri in armatura affrontano i morti coperti di corazze di forgia medievale, armati di spade e visceratori a motosega e armi incendiarie. L'ufficio dell'inquisizione passa al setaccio la popolazione in cerca di dissidenti, eretici, miscredenti, condannandoli alle pene atroci per cui tale ordine era famoso già secoli addietro. Culti misterici, satanici e pagani si nascondono nelle valli appenniniche e nelle remote aree lontane dalle regioni liberate dai morti. L'Italia sa che il quarto Reich brama di estendere i suoi domini anche sulle terre della chiesa e da tempo si prepara allo scoppio di nuove ostilità. Spingiamoci ora più ad est verso le lontane distese della Siberia. Il soviet. Il soviet è probabilmente lo stato sopravvissuto più forte dalla popolazione più numerosa. Essa è ridotta in uno stato di schiavitù cromira che ha reso le vite dei cittadini operai un vero inferno futurista senza tempo. I turni di lavoro massacranti sono interrotti da poche ore di sonno. I cadaveri vengono riciclati e riproposti come cibo. Il bozzene viene bevuto a fiumi intorpidendo il senso crescente di ribellione. Il tutto si consuma a centinaia di metri o chilometri sottoterra nei ventri metallici e immensi delle città formicaio difese e controllate dalle biomacchine di zar. Cervelli umani viventi inseriti in macchine semoventi dall'aspetto corroso antiquato e decadente in pieno stile sovietico. In questa società distopica si vive ritmi di lavoro disumani, si viene privati del nome e in pochi ricordano che cosa sia il vento o un tramonto. Spesso le biomacchine impazziscono rivoltandosi contro i loro stessi costruttori e proponendo contro di essi il loro potenziale offensivo con conseguenti focolai di morti affamati. Nei condotti infiniti si aggirano creature infernali degni dell'horror più agghiacciante. Se tutto questo non dovesse bastare si mormora di una rivolta delle macchine che hanno preso ad assumere comportamenti sinistri e inquietanti. Ora invece torniamo sul Mediterraneo, in Africa. Il regno d'Egitto è tornato sotto il divino dominio dei faraoni risorti, ora dotati di poteri divini in grado di ammanzire o cacciare i morti che a milioni vagano lungo i suoi confini. L'esercito del faraone ha integrato le tupre britanniche di stanza nella regione, affiancate da figure anacronistiche di guardie con vistosi copricapi a forma dei volti antropomorfi degli dei egizi, in stile Stargate per intendersi. I faraoni e le loro cohorti di servitori immortali abbisognano della carne vivente come tutti gli altri morti e inviano le loro guardie nel regno per prelevare i sudditi più belli o di valore per cibarsene come atto sacrificale. Sotto le piramidi meno conosciute e nelle tombe nascoste molte mummie si agitano grattando i loro sepolcri e contorcendosi nelle bende dei loro sudari. Alcune di esse si sono liberate e hanno stretto un'alleanza volta a conquistare il regno del Nilo strappandolo dalle mani adunche del dio faraone Ramses II. Altri invece hanno fatto appello ad antichi ed innominabili rituali dalle tinte lovecraftiane per ottenere poteri di influenza ancora maggiori. Queste sono le principali ambientazioni di Sinereque a cui vanno aggiunte quella del Giappone e degli Stati Uniti che magari affronteremo in un altro podcast. Per generare i propri personaggi i giocatori hanno a disposizione una vasta gamma di archetipi come soldati ufficiali, professori monaci, cacciatori di morti, sopravvissuti, banditi, medici, razziatori, oltre ad una serie di altri archetipi strettamente legati alla regione di provenienza come i templari o i conversi per il Sanctum Imperium, gli operai ingegneri e i gladiatori del Soviet o i soldati della Ferrer Brigade e gli agenti della Gestapo per il IV Reich. Il sistema regolistico di Sinereque è altrettanto originale quanto il gioco stesso. Per effettuare ad esempio una prova, che sia sparare con un MG62, pilotare un cingolato, correre su un terreno difficile o cercare di arrampicarsi per sfuggire ai morti, il giocatore non fa uso di dadi ma del mazzo di carte da 56 arcani minori e di un altro mazzo da 23 carte, quello dei tarocchi, gli arcani maggiori. Si estrae una carta dal mazzo degli arcani minori e si confronta il valore e il seme della carta con l'abilità o la caratteristica corrispondente alla prova richiesta e se il risultato è inferiore a tale caratteristica allora l'azione avrà successo. Ma ci sono anche i risultati come successo ma, insuccesso ma, successo assoluto nel caso si peschi un asso e via dicendo. I tarocchi vengono usati in contingenze vitali e di ampio respiro situazionale e ciascuno, oltre a determinare carattere e caratteristiche del personaggio il momento della creazione, avrà delle conseguenze determinanti nella scena giocata in quel momento, spesso inaspettate e spettacolari, oppure mortali e definitive. Proposito, la mortalità in Sine Requie è uno degli aspetti caratteristici di questo gioco ed è davvero molto probabile che i personaggi muoiano ad un ritmo spaventoso rispetto ad altri tipi di giochi. Il manuale è strutturato per raccontare quasi ogni aspetto del gioco come una testimonianza diretta degli abitanti e le volute contraddizioni e mezze verità sugli elementi del mondo di gioco garantiscono un'inesauribile fonte di ispirazione per il Dungeon Master, pardon, in questo caso cartomante, per creare campagne sempre diverse su fulcri e leve sempre diversi d'originali. Insomma, un gioco con le spalle quadrate, pestomaci forti. Tuttavia ci sono anche dei lati oscuri, benché siano davvero molto pochi. Recentemente il gioco ha visto una nuova edizione con un regolamento più snello e veloce, ma che non ho avuto purtroppo ancora l'occasione di vedere e leggere, per cui io mi limiterò alle considerazioni sull'edizione precedente, che invece ho acquistato assieme a tutte le sue espansioni e compendi. Nelle campagne che ho narrato a Sine Requie ho spesso dovuto inserire delle regole homemade, andando a sostituire o ad eliminare alcuni passaggi macchinosi e lenti, andando ad intaccare quel senso di frenesia omicida che li caratterizza in Sine Requie. In più, il sistema delle carte può risultare lento se, oltre al risultato numerico o di figura, si debba anche andare a vedere la risonanza tra il seme della carta e il seme della caratteristica, o del seme con il tarocco dominante del personaggio. Detto questo, non ho mai sentito l'uso delle carte come un limite o una negatività, ma comprendo che per alcuni puristi, per così dire, potrebbe risultare troppo macchinoso o addirittura un po' troppo esotico. Un'altra nota, che personalmente mi piace moltissimo, ma che per cartomante alle prime armi potrebbe essere destabilizzante, è la casualità incontrollabile di alcuni eventi. Una carta sbagliata o un risultato di, ad esempio, successo, ma potrebbe trasformare una corsa in auto in una tragedia nel giro di un paio di turni. Risultati come l'azione non complicazione per te e per tutto il gruppo, portano i giocatori a dover sostenere una serie di prove nel tentativo di aggirare o sopperire alla problematica conseguente quel fallimento, ma che rischiano a loro volta di continuo, di peggiorare la situazione fino a situazioni in cui neanche il cartomante può intervenire, e la tragedia piove sul gruppo spesso decimandolo. Ripeto, per me è un aspetto che mi piace moltissimo del gioco, ma che deve essere chiaro per tutti fin dall'inizio. In una campagna che narrai della durata di circa un annetto buono, tutti i giocatori persero almeno un paio di volte ciascuno i propri personaggi, tranne uno che riuscì a campare dall'inizio alla fine, protetto dal tarocco più bello di tutti, il matto. In conclusione, Sinereque è un gioco poliedrico che comprende campagne di tipo investigativo, survival, horror, lovecraftiane di combattimento, di esplorazione, di introspezione, insomma, è un gioco ricchissimo e spietato da giocare con le luci soffuse e la giusta musica di sfondo, senza cazzeggiare troppo, anche perché così vi regalerà sessioni e personaggi davvero indimenticabili. Ora ci ascolteremo i messaggi di alcuni dei nerdazzi che hanno avuto modo di giocare e talvolta narrare sessioni nel mondo ferale di Sinereque. La parola ad Edoardo. Sinereque per me è stata una bellissima scoperta all'inizio degli anni 2000. Ricordo che era a Luca Comics e che vedi questo libro nero dove erano contenuti delle regole per giocare un'ambientazione infestata dai non morti, morti inaffrontabili e indistruttibili in un mondo post-apocalittico e allo stesso tempo ucronico, dove le peggiori dittature del mondo in maniera totalmente distorta e terrificante erano ciò che rimaneva di un mondo oramai distrutto. E mi affascinò subito e lo presi subito. Ricordo l'unica cosa di ostica inizialmente io abituato a lanciare i dadi, il regolamento sulle arcane maggiori e le arcane minori che un po' mi disorientò. Ma dopo averlo retto in maniera approfondita, ricordo che dopo una settimana che avevo finito il libro, decisi di organizzare subito una sessione ambientata nel Sanctum Imperium, un'avventura con un gruppo di ragazzi dell'epoca che rimasero entusiasti. Sene Reco è molto bello, è molto divertente. Ricordo, a proposito di situazioni interessanti, siccome è un gioco a alta mortalità, ricordo due episodi. Uno è un giocatore che giocava con me, Lorenzo Poggi, che saluto, che però ha il record di morti all'interno di un'avventura, sia per il numero di morti, perché è riuscito a morire nella stessa avventura sei volte, sia per la velocità della morte, perché un'avventura è riuscita a morire, una sessione è riuscita a fare le schede del personaggio, entrare e morire per una pallottola vagante, dopo poco, in non più, volevo dire dieci minuti, massimo un quarto d'ora. Mentre invece un altro personaggio che venne su bene e che fu interessante per quell'avventura, la mia prima avventura nel Santo Imperium, fu il personaggio di un altro ragazzo, del Buon Barzio, che fece un paladino, un paladino e un paladino preso da D&D, un templare, che nelle lamentazioni del Santo Imperium sono molto importanti, perché sono tornati in auge per combattere i morti. e questo templare totalmente anacronistico con l'armatura e lo spadone, che si getta contro i morti a combatterli, è stato notevole, è stato affascinante, era anche ben costruito, un uomo che veniva dalla Lombardia, che aveva visto distrutta la sua città e che anni dopo l'aveva liberata grazie al nuovo ordine costituito di frati combattenti. Un personaggio che durò a lungo e che purtroppo morì, per l'appunto, in un duello contro un ex templare, diciamo, di una seta convertita nella nostra avventura, che lo affrontò anche lui con uno spadone, combatterono a lungo, si ferirono vicendevolmente più volte, ma alla fine il povero Giorgio da Bergamo, se non sbaglio, il personaggio si chiamava così, morì con una decapitazione netta da parte del suo avversario. Sinerequia è molto interessante, intrigante, sia perché le varie ambientazioni, le tre principali, che sono il Sanctum Imperium, il Soviet, che è splendido, e il Quarto Reich, e anche le Terre Perdute, danno miriade e miriade di spunti per le avventure, veramente tanti, e quindi ci sono per tutti i gusti, veramente per tutti i gusti, per tutti i tipi di ambientazione, dall'investigazione all'horror puro, al semplice gioco di sopravvivenza, ai giochi di esplorazione, per esempio viene a mente anche l'interessante ambientazione dell'Egitto. È un gioco che io, cioè dei manuali che letteralmente adoro, e che considero splendidi, anche a confronto di giochi americani, o di altre nazioni, magari pompati con milioni di dollari, bisogna ammettere che ci sono soprattutto le prime tre, e quattro ambientazioni di Sine Requie che sono splendide. Come punta a sfavore di Sine Requie, forse a parte il sistema di gioco, che però è semplicemente un discorso di abitudine, che quindi si può ovviare, ammetto che negli ultimi manuali si è persa un po' questa magia, soprattutto il manuale del Giappone, io ricordo che lo aspettai a gloria, che mi lasciò abbastanza deluso, e l'America dopo un primo capitolo formidabile, poi si perse un pochino nei meandri del già visto. ultimamente mi dispiace che la loro lore si sia un po' fermata all'anno 13, e che non vada avanti, mentre già noi tra amici si fantasticava, e qualcuno di noi ha giocato avventure che andavano avanti nel tempo, per ipotizzare cosa succederebbe in un'ambientazione del genere andando avanti. Sì, l'unico dispiacere e pecca forse per Sine Requie è questo, il fatto che a distanza di anni è rimasto comunque un po' fermo, approfondendo magari gruppi di potere, ma tralasciando la cosa più bella di Sine Requie, che secondo me era la lore e la trama. Per il resto bisogna ammettere che come si fa a volere male a Sine Requie, cieca, ferocia e cieca distruzione in un mondo oramai perduto nell'obligo della morte. Bellissimo. Come abbiamo già detto, Sine Requie è un gioco che lascia il segno e che ciascuno può indossare sui propri canoni grazie alla varietà di temi e ambientazioni. Ora invece ci ascolteremo il messaggio di Alessandro Ricci, alias Sandrino, che ha avuto modo a sua volta di giocare a questo splendido GDR. Allora, intanto buongiorno a tutti. Parlando di Sine Requie mi vengono a mente un po' di pensieri. Io credo che come ambientazione sia estremamente versatile, che dia la possibilità di fare one shot, come di avventure un pochino più lunghe. Ora magari una campagna vera e propria, che dura anni e roba del genere, è altamente improbabile. Però diciamo che come tipologia di gioco dà un sacco di spunti e un sacco di possibilità. A proposito degli spunti, vorrei dire una cosa, probabilmente l'ha già detta il qui presente Claudio, però io credo che la diversificazione di posti in cui viene ambientata, di luoghi in cui viene ambientata appunto la lore, dà una infinita possibilità di giocare, dà la possibilità al master e ai giocatori, chiaramente di cogliere ogni singola particolarità, di ogni singolo luogo, che durante un'avventura, ripeto, una one shot, un'avventura un po' più lunga, una roba del genere, viene visitato appunto dai personaggi giocanti. Detto questo, Sinereacchi si presta sia a cose un po' più seriose, insomma un po' più coupe, un po' più horror, dalle tinte insomma un po' più coupe appunto. Mi viene in mente un'avventura che si fece tempo fa con uno dei vari gruppi di gioco, praticamente ambientata a Dusendorf nel quarto Reich, e semplicemente alla fine era un'investigazione di un crimine, ma c'era mezza roba paranormale, morti, insomma che si intrecciava invece con avvenimenti che portati avanti da persone viventi, c'era una serie di omicidi che non si capiva bene se erano commessi da questo non morto senziente o da persone vive, insomma era tutta una cosa un po' complessa, però avevano insomma questa atmosfera estremamente horror e cupa, anche un po' pesante, però un'avventura meravigliosa, secondo me esagerata, come una one shot al D-Day quando i morti tornano in vita, ambientata tutta all'interno di un sottomarino, sottomarino insomma totalmente, cioè già in navigazione, già in mezzo all'oceano, che per un incidente uno dei marinai, diciamo dell'equipaggio, perde la vita, e da lì succede il putiferio, perché questo nessuno sa cosa sono, non si sono ancora mai visti, nessuno sa da dove provengono e cosa sia successo, e questo non morto, chiaramente sguinzagliato in un luogo ristretto e claustrofobico come è un sottomarino appunto, porta lo scompiglio assoluto, quell'avventura mi ricordo che finì con due suicidi, giusto per completare un delirio di due sessioni, poi c'è una notte estremamente semplice, da lì invece si può magari anche trattare qualche tema un po' più leggero, cioè e farci un sacco di risate sopra, ricordo un'avventura nello specifico, nel Santum Imperium, dove un nostro amico, insomma un personaggio giocante, che è riuscito a perdere un totale di, se non mi ricordo male, 7-8 personaggi nell'arco di tutta l'avventura, in modi dal prendere una zappata in testa da un maier, uno morto insomma un po' più grosso dei simplex classici, al, non lo so, all'amico che ti muore fra le braccia e in un istante si trasforma in un mostro assedato di sangue e va tutto insomma a finire in malore. Di scene ce ne sono state tantissime, da ricordarne nello specifico è già più difficoltoso, però insomma è un gioco che secondo me vale, vale, vale veramente la pena, vale la pena leggere tutte le ambientazioni, tutte le lore, perché sono veramente carine, e a parte un paio che magari sono un po' più di più difficile di gestione, però proprio per il resto, insomma secondo me è un gioco estremamente valido. Non tocco il sistema di gioco perché è un po' più complessino, però secondo me è abbastanza agile anche quello. Bene, detto questo, grazie. Grazie Claudio, a te la parola di nuovo. Sine Reque è un gioco in cui è facile affezionarsi ad un personaggio ed è altrettanto facile purtroppo vederlo spazzato via da una granata sfuggita di mano o fra le fauci ovviamente dei morti. Ora ci ascolteremo un messaggio di Roberto alias Bob che ha giocato a lungo una campagna di Sine Reque anno 13 che narrai io in quel caso e in cui ha visto passarsi fra le mani le schede di diversi personaggi, ahimè, uno dopo l'altro, morti malissimo. Beh, che dire di Sine Reque? Sine Reque è un gioco molto bello, è un gioco molto immersivo, è un gioco che si presta a numerosi anche livelli di interpretazione dall'investigativo al pure action, se così si può dire, diciamo, e anche alla survival, soprattutto alla survival. Diciamo che ci sono numerosi livelli all'interno del gioco che ti permettono di affrontare lo stesso mondo pieno di morti e intriso di estremismi e di concezioni politiche, religiose particolarmente marcate su appunto più livelli e portare il divertimento anche ripetendo varie avventure con un approccio differente. Ma c'è una cosa in particolare che rende Sine Reque il gioco che è ed è l'incredibile tasso di mortalità dei personaggi. A Sine Reque non ti devi mai affezionare un personaggio perché la facilità di morire, la facilità con cui il tuo personaggio muore è disarmante, è più semplice di un tiro di dado. È capitato a me, ad esempio, di aver giocato proprio a Sine Reque il personaggio che è morto più velocemente in tutta la storia del mio giocare di ruolo. È durato un malapena poco meno di 10 minuti, se non mi sbaglio, 7 minuti e mezzo, 8 minuti. Era un cerchino della Sacra Milizia che è stato attaccato in corpo a corpo tra l'altro da un simplex e con, tirando male le carte, diciamo, avendo un po' di sfortuna, giustamente il morto mi ha ucciso con un colpo di cacciavite nel crani. E questo è successo molte, molte, molte volte di dover rifare la scheda di un personaggio non solo a me, ma anche a tutte le altre persone che hanno condiviso le schede di Sine Reque. C'è soltanto una persona, soltanto un nostro ex compagno di gioco che addirittura ha giocato lo stesso personaggio in due episodi della stessa campagna di Sine Reque, cioè non due episodi, due sessioni. Proprio la prima parte della campagna, la seconda parte della campagna è stato l'unico ad averla giocata tutta con lo stesso personaggio. E questo personaggio è appunto... si chiamava Antonio Lenzi e fu eclatante la quantità di volte in cui quel personaggio si salvò nella maniera più impensabile e assurda possibile. Non per nulla il suo tarocco dominante era il matto e quando era in situazioni disperate dove era praticamente impossibile che ne uscisse salvo o comunque integro o in qualche maniera in grado di poter continuare l'avventura riusciva sempre, sempre a prendere il matto dal mazzo dei tarocchi e a salvarsi o a compiere azioni impossibili dal essere in ginocchio e ferito con una pistola puntata in ufficiale dell'SS che è esplosa in mano all'ufficiale uccidendolo e facendo così in modo che il personaggio Antonio Lenzi si salvasse a quando contro un'antica entità probabilmente il più potente non morto faro faro il... il più potente non morto faro il molok un'antica divinità risorta sumera papibonese insomma delle popolazioni che abitavano il Tidio e le Eufrate sempre tenendo il matto riuscì in quello che sembrava impensabile ovvero con un colpo di di pistola sparare e colpire questa figura in mezzo agli occhi e ci sono state numerosissime altre volte da un bombardamento dell'artilleria dell'SS a scappare dai condotti di nuova a Stalingrado una volta catturati dai sovietici via e via e via e quel personaggio è riuscito a passare indenni tra tutte le inventazioni del Sinereg che abbiamo giocato sia nel Santum Imperium che è nel Quarto Reich che è nelle terre selvagge che è per finire nel Soviet le ha viste tutte e quattro ed è riuscito a sopravvivere quindi per tutti i nostri ascoltatori e tutte le nostre ascoltatrici vi auguro se mai giocate a Sinereglie di poter essere anche voi come Antonio Lenzi e di poter esplorare tutte le meravigliose ambientazioni e sfaccettature di questo gioco fantastico prodotto da ragazzi toscani tra l'altro proprio come noi e sopravvivere fino in fondo a quella che sarà la campagna preparata da voi per voi dal vostro master alla fine della campagna citata da Roberto pensammo di regalare uno zippo della seconda guerra mondiale al giocatore così fortunato che raccontava Bob e ci facemmo scrivere sopra le iniziali di nascita e morte del personaggio tanto erano state incredibili le volte in cui le carte lo avevano salvato in estremis a questo punto ci sarebbero ancora moltissime cose da dire ma il nostro tempo ormai si sta esaurendo per un master che volesse approcciare al gioco di sine requie posso dire che mantenere l'atmosfera di incertezza e terrore è fondamentale anche se alla lunga il continuo attrito con i morti tende a far svanire questo tipo di atmosfera per evitare che ciò avvenga si possono dosare volta per volta i vari tipi di morti creando attorno a ciascun incontro condizioni uniche contingenze che aiutino a percepire il senso di perdita e angoscia che stanno dietro alla storia di ciascun morto che si incontra oppure di sfruttare gli infiniti nemici viventi che possono essere ancora più temibili di quelli morti a volte almeno è così se questo podcast vi è piaciuto vi invito a seguirci su spotify su youtube instagram e facebook dove troverete ogni aggiornamento sulle nostre campagne e attività da quei bravi nerdazzi è tutto e che gli dei veglino sui vostri tiri di dado o di carte in questo caso alla prossima puntata da moidart ciao ciao ciao